Buongiorno, nel grande giorno oggi registreremo il video del mio primissimo singolo universo Buongiorno, nel grande giorno oggi registrano il video del mio primissimo singolo universo Buongiorno, nel grande giorno oggi registrano il video del mio primissimo singolo universo Buongiorno, nel video del mio primissimo singolo 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 Buongiorno 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 Un amico, 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 un amico. Non ci stiamo provando, ci vediamo massimamente. Ciao! Stiamo scontando la pancia cura, adesso procediamo con la cena dello specchio, e qui avrò truccatori, costumiste e parrucchieri che mi... ...l'avrò un'altra armata, mi tirano i capelli e mi truccano, eh? E io dovrò guardare lo specchio fisso e cantare, fare il play, non curare di quello che succede qui. Trucco a destra, si trucca a sinistra. Lo sai, si sa faccio entrare tutte le volte a fare la sensazione, perché poi magari usano una parte di play perché è lei, eh? Siamo avuti la partecipazione esclusiva del Terri. Terri, esclusiva. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sicuro. Mi sogno, mi sogno. e veniamo a fare questa prova ok approvato questo cambio è un finale e adesso dobbiamo trovare un cambio per l'altra ballatina un altro play per il tuo cuore e niente ho provato sto vestito me la scrivi inzitissimo e mi sa che non riesco a ballare e niente adesso procediamo non riesco a ballare e poi viajando in unidazzo buscando lo che si ha perdido il muro che lo farei grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti